salve di nuovo io il vostro sante cian faccio questo breve video più breve possibile perché come dirà il titolo io me ne frego nel calcio non mi importa nei mondiali anche se poi commento calcio mondiali ma è un pretesto per parlare di altre cose non è mai piaciuto il calcio è sempre stato un fenomeno di massa un fenomeno violento di intolleranti perché l'unica cosa che vogliono anche vinca la loro affazione allora un fenomeno affazioso io faccio di meglio invece che guardare una partita di calcio e quindi niente il mio messaggio molto breve vorrei invitare tutti voi che non amate il calcio che non ho seguito addirittura lo odiate a votare mi piace a questo video e a lasciare dei commentari anti calcio proponendo cose alternative come interesse personale come collettivo da fare al posto del calcio vuoi che fareste invece di guardare una partita di calcio che vorreste che il vostro paese e la società si interessino di proporre alla gente invece di seguire una partita di calcio è più importante che si spendi denaro pubblico per guardare una partita di calcio o magari per praticare sport per la salute che vorreste che proponesse la vostra città il vostro comune la vostra provincia la vostra regione il vostro stato invece di finanziare il calcio spettacolo con tutta la corruzione che ne deriva e tangenti calciopoli cioè la tangentopoli del calcio quindi votate mi piace al video se non vi piace il calcio se decidete che il calcio non è importante votate mi piace a questo video fate clic nel banner pubblicitario anche ma poi oltretutto lasciate dei consigli e dei suggerimenti su cosa considerereste più importante del calcio che lo stato italiano si deve occupare al posto del calcio e anche i telegiornali e tutto il resto la tele e la radio e proponete delle attività alternative al calcio filtrerò solo i commentari peggiori e quelli migliori vi lascio e quelli che non siano offensivi non il filtro però ecco il mio messaggio è questo molto breve se non vi piace il calcio votate mi piace a questo video e più proponete delle cose alternative arrivederci per la nostra sentenza quando si parla di cultura bisogna sempre proporre qualcosa attivamente altrimenti che si parla a fare